Agenda Aperta, Club Italia, non poteva mancare Sabrina Salerno. Eccomi qua, sì. In veste di conduttrice, giusto? Ahimè, sì, di conduttrice, però sarà una cosa, diciamo, molto divertente. Non mi pongo effettivamente come una vera presentatrice, perché non l'ho mai fatto, quindi... Vedremo questa sera che cosa succede, perché anche io mi metto, diciamo, a una prova, a una vera prova per me, quindi vedremo. Io spero che vada bene comunque. Quindi un'anteprima per Agenda Aperta e naturalmente, come ragazza simbolo per molte ragazze in Italia, che messaggio vorresti lanciare a queste ragazze che vorrebbero intraprendere una carriera come la tua? Beh, in realtà ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, perché è difficile descrivere in poche parole ciò che bisogna fare. Ciao, sono Sabrina Salerno. Un saluto a tutti i telespettatori di Agenda Aperta. Buon'estate. Ciao!